Credo che il Santo Padre vuole esprimere con questo viaggio soprattutto, oltre naturalmente, il suo amore e la sua devozione alla Madonna, di cui abbiamo tantissime prove, tantissimi segni, il fatto per esempio che lui sempre si recchi a Santa Maria Maggiore, a pregare davanti alla Salus Populi Romani, prima e dopo ogni suo viaggio. Ma questo viaggio metterà in luce soprattutto il rispetto e l'attenzione che il Papa porta all'esperienza mariana del popolo di Dio. Un'esperienza mariana che ha saputo riconoscere negli eventi di Fatima, mai lontani, 1917, una impronta specifica della Vergine del Magnificat, ecco io sottolineerei questo. La Vergine del Magnificat, la Signora del Rosario, che non è apparsa ai ricchi, non è apparsa ai potenti, non è apparsa alle persone influenti, ma è apparsa a dei bambini. Potremmo in un certo senso considerarli un po' gli ultimi, ecco, della società, per usare la terminologia del Papa, quasi gli scarti della società, ecco, ha voluto proprio privilegiare queste persone, privilegiare questa categoria di persone. Perché la Madonna, ecco, del Magnificat, perché la Madonna appunto ha dato ai pastorelli di Fatima un messaggio controcorrente, ecco, eravamo in tempo di guerra, 1917, quindi il discorso era quello dell'odio, era quello della vendetta, era quello dell'ostilità, dello scontro, l'inutile strage di Benedetto XV. Quindicesimo, ecco, la Madonna invece parla di amore, parla di perdono, parla di capacità di sacrificare se stessi e di fare di se stessi un dono agli altri, quindi un coppovolgimento totale dei valori che in quel momento, o dei disvalori che in quel momento stavano prevalendo nella società. Ecco, mi pare che queste siano due indicazioni di grande attualità, anche per di Portogallo e un po' per tutto il mondo, proprio questa capacità, diciamo, di partire dagli ultimi, di valorizzare gli ultimi e questa capacità di vivere gli autentici valori che possono essere alla base anche di una convivenza pacifica e solidale all'interno di ogni paese e fra i paesi. Pensando alla devozione mariana di Papa Francesco, più volte lui ha ricordato che ci aiuta a sciogliere i nodi del peccato. Quanto un luogo, un santuario come Fatima aiuta l'uomo contemporaneo a risolvere i grovigli del suo cuore? Sì, si dice normalmente che i santuari sono le cliniche dello spirito, no? Ecco, e sappiamo, il Papa l'ha messo in luce anche recentemente, trasferendo le competenze per i santuari in generale, ma per i santuari mariani, anche al Pontificio Consiglio della nuova evangelizzazione. Ecco, io credo che nei santuari risuona sempre l'annuncio dell'angelo a Maria che niente è impossibile a Dio, no? E un santuario diventa un luogo appunto di crescita spirituale nel momento in cui aiuta le persone a rispondere come Maria, eccomi. Ecco, di fronte appunto a questa realtà che nulla è impossibile a Dio, che non è impossibile a Dio fidarsi dell'uomo, che non è impossibile a Dio affidarsi all'uomo e camminare con l'uomo, che non è impossibile trasformare la vita e il mondo grazie al suo amore, alla sua tenerezza, alla sua misericordia, che è possibile a Dio liberarci dal pesi del nostro futuro che a volte ci blocca e ci schiavizza, del nostro passato, liberarci dai pesi del nostro passato che a volte appunto ci schiavizza e ci blocca e aprirci ad un futuro nuovo, inedito e sorprendente. Ecco, Maria ha saputo dire di sì a questa proposta di Dio, a questo progetto di Dio. Un santuario può aiutare in questo senso, ecco, a crescere in questa consapevolezza che a Dio tutto è possibile e nel rispondere generosamente a questa realtà con l'offerta della propria vita. Sono trascorsi appunto cento anni dalle apparizioni della Vergine ai Pastorelli. Quanto ha da dire ancora Fatima al mondo e alla Chiesa? Mi vengono in mente le parole di Benedetto XVI nel 2010 quando disse si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica di Fatima sia conclusa. Sì, io credo che il messaggio di Fatima è il messaggio centrale del cristianesimo, quello che stiamo vivendo soprattutto in questo periodo pasquale, cioè l'annuncio che Gesù è risorto, che Gesù è vivo, che Gesù è il Signore della storia. Ecco, si è tanto speculato e forse si continua anche a speculare sui segreti di Fatima, ecco, ma sono in un certo senso speculazioni inutili perché quello che Fatima voleva dirci ce l'ha detto chiaramente e pubblicamente ed è proprio questo messaggio centrale, il messaggio centrale della fede, della nostra fede cristiana, della nostra fede cattolica. E quindi da qui nasce anche una diversa visione della vita, la vita che diventa un pellegrinaggio verso il Signore Gesù, ecco, diventa un pellegrinaggio sostenuti dalla forza del Vangelo e rinnovati continuamente dalla forza del Vangelo. Allora la missione profetica di Fatima è quella di richiamare alla Chiesa, ecco, quello che essa è, quello che essa deve continuare ad essere e ad annunciare nel mondo di oggi e cioè una comunità che proclama i cieli nuovi e la terra nuova e che li attende e quasi li anticipa, direbbe il Concilio, proprio immergendosi nelle pieghe della storia, soprattutto le pieghe più oscure e più dolorose, con la forza dell'amore, ecco, per cambiare questa storia. Questo è il messaggio profetico di Fatima e il messaggio profetico della Chiesa che in certo senso coincidono. Una grande gioia, è stato annunciato che proprio durante il viaggio Papa Bergoglio canonizzerà Francesco e Giacinte il 13 maggio. Quanto sono ancora attuali queste figure? Dobbiamo distinguere un po' tra quelli che sono, diciamo, i mezzi e i fini, nel senso che evidentemente Francesco e Giacinta appartengono a un certo tempo, ecco, una certa epoca della storia con il suo modo di esprimersi, con il suo linguaggio, con gli strumenti che allora si utilizzavano, ma, dice, il fine è proprio questa capacità di questi due bambini, nella loro semplicità, di andare al cuore del Vangelo. Ed è questo il messaggio che questi due bambini ci portano, ecco, capacità di andare al cuore del Vangelo attraverso il cuore immacolato di Maria, perché Fatima sottolinea anche questa dimensione, il cuore immacolato di Maria, un cuore, come dicevo prima, che ha saputo accoglie, immacolato per grazia naturalmente, ma che ha saputo rispondere accogliendo in pieno l'amore e la misericordia di Dio, che ha saputo vivere ispirandosi alla libertà del crucifisso, ecco, e che questi bambini, questo messaggio, questa realtà hanno fatto propri e che ora ci propongono adesso con l'autorevolezza della loro santità, appunto, che la Chiesa riconosce di fronte al mondo.